Nel tardo pomeriggio di venerdì i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Ferrara hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare alle arresti domiciliari a carico del 21enne Lorenzo Piccinini per il reato di tentata estorsione, uomo che 2 settembre scorso entrò al Big Town a Ferrara con Davide Buzzi, 43 anni, poi deceduto a seguito delle ferite riportate nella rissa avvenuta con il titolare del locale Mauro Di Gaetano e con il padre Giuseppe, entrambi ristretti nella casa circondariale di via Arginone. Anche Piccinini venne ferito e poi ricoverato in ospedale da cui è stato dimesso. Intanto l'inchiesta è andata avanti e il 21enne venne iscritto nel registro degli indagati. Come riferiscono i carabinieri, gli accertamenti eseguiti avrebbero permesso di raccogliere elementi che avrebbero spinto gli inquirenti a emettere l'ordinanza con l'accusa di tentata estorsione. Secondo quanto emerso Buzzi e Piccinini si sarebbero presentati al locale con una tannica di benzina e avrebbero minacciato di dar fuoco al Big Town in caso di mancata consegna di denaro. Prosegue così il lavoro degli inquirenti per far luce su tutti gli aspetti di quella sera collegati anche a vicende precedenti alla tragedia del Big Town.